Avrei potuto rimandare questo video proprio per aspettare la fine di questa situazione Avrei evitato non so quanti insulti, parole, bestemmie, tutto quello che volete Ma no, ho deciso di utilizzarmi come esempio per evitare che succeda anche a voi Avete capito bene, voglio che la mia situazione sia ad esempio per tutti voi Di solito sui social se uno sbaglia si nasconde proprio per non far vedere l'errore Perché poi cosa penserà la gente, cosa mi diranno Invece io non ho paura di dire che ho sbagliato Non ho usato delle misure di sicurezza, delle protezioni Mentre lavoravo in palestra, stavo montando delle prese E niente, che cosa è successo? Mi è andata una scheggia metallica nell'occhio e quindi sono finito al pronto soccorso Non vi preoccupate, senza la benda comunque ci vedo Ma l'occhio è in fase di guarigione, ho un'altra visita poi più in là E spero di aver rimosso tutte le varie schegge perché insomma ho ancora parecchio fastidio Al momento questa serve proprio per evitare l'ingresso di polvere, altra sporcizia, altri corpi estranei all'interno dell'occhio Ma ripeto appunto, ci vedo quindi non vi preoccupate Detto questo, ecco, io non mi vergogno di dire sì ho sbagliato So che molta gente si altererà e dirà Ben ti sta, te lo sei meritato Ok, va bene Però ecco, sopporto queste critiche che sono pure giuste se fatte in un certo modo E non sono soltanto insulti a caso E voglio che questa mia situazione partita da un mio errore sia ad esempio per voi Perché ecco, capita spesso che uno sottovaluti la situazione Io ero in palestra Quindi mi raccomando, vedete Può sempre succedere Io con tutto il fatto che ho gli occhiali, eh Io gli occhiali li uso sempre quando vado in palestra a tracciare E nonostante questo mi sono beccato comunque una scheggia metallica nell'occhio Quindi dalla prossima volta inizierò ad utilizzare degli occhiali di protezione Proprio perché, insomma, vorrei evitare che succeda di nuovo Chiaramente in questo periodo devo evitare, come la peste, fumo, fuligine, polvere, segatura Tutto quello che vi passa per la mente Proprio perché se mi va a finire nell'occhio Rischio di infettarlo, di infiammarlo ancora di più E già mi sto riempiendo di gocce, goccine, goccione Quindi diciamo che prima guarisce l'occhio, meglio è Proprio per questo, magari in questo periodo, ne approfitto per mostrarvi Alcuni oggettini interessanti Sia in questo video che nei prossimi E per il momento metto un po' in pausa i coltelli Perché, insomma, spaccando roba si solleva polvere, segatura Ora in questo periodo è pieno di polline in giro Quindi tocchi un ramo e si libera una nuvolona di polline Non accendo il fuoco al momento perché fumo negli occhi Arriva un po' di corrente, gira il vento Ti arriva il fumo negli occhi Insomma, cerchiamo un attimo appena appena di evitare E quindi nei prossimi video, compreso questo, vi farò vedere Un po' di prodottini interessanti Oggi incominciamo con il kit di manutenzione Della Lederman Che ho qui Come oggi E contiene un po' di prodottini interessanti Proprio per mantenere in ottimo stato le nostre Lederman Che, come sapete, appunto Sono degli strumenti abbastanza costosi E quindi mantenerli perfetti, in ordine, puliti Chiaramente ne allunga la vita Chiunque compra un oggetto ci tiene E soprattutto se ha speso un po' di soldi Vuole che duri nel tempo Quindi grazie a questo kit qui Potremo curare i nostri multitool della Lederman Io ormai ne ho parecchie, ma vi faccio vedere tranquilli E quindi dureranno veramente una vita Ecco qui il kit di manutenzione della Lederman E vediamo cosa c'è all'interno Io l'ho riempito già con tutti i miei multitool Ma andiamo per gradi E vi faccio vedere, appunto, cosa contiene Innanzitutto, vabbè, io ho portato con me anche il foglietto illustrativo Ma non ce n'è bisogno È giusto per farvi vedere che è contenuto all'interno C'è un panno in microfibra Chiaramente per pulire gli eccessi di sporco, olio, eccetera Abbiamo uno spazzolino con due testine diverse Abbiamo uno di quegli strumentini uguali e identici a quelli dei dentisti Proprio per andare nelle cavità più piccole, nelle fessurine dei nostri strumentini E pulire ogni singola particella di sporco Lo faccio vedere più da vicino Come proprio quelli dei dentisti Qui abbiamo dei cotton fioc Credo siano però in microfibra anche questi Proprio per andare a pulire, strofinare Senza andare a rovinare comunque il nostro metallo Le nostre guancette Perché chiaramente pulendo e strofinando potrebbero graffiarsi Carina comunque la pouch Qui vedete avete questo manico Qui passante per la cintura Qui potete appenderla E poi sfogliando e girando pagina Troviamo l'olio che preferisco tenere qui dentro Anzi l'ho messo in una seconda busta Proprio perché voglio evitare che vada a disperdersi Non si sa mai Meglio prendere misure di sicurezza Piuttosto che non farlo Ed è chiaramente un olio perfetto e adatto Proprio per tutti i multitool Della Leatherman Ve lo faccio vedere Con tra l'altro apertura di sicurezza Vedete io non riesco ad aprire Devo prima spingere E poi svitare Per riuscire a togliere il tappo Non si può né avvitare di più Né svitare Quindi comunque ha una chiusura di sicurezza Poi troviamo un piccolo piano di lavoro Sul quale appoggiare i nostri strumentini E delicatamente andare a pulire Tutto quanto Tutta la sporcizia E infine Una delle cose più interessanti Di tutto quanto Il kit È l'affilatore Della Leatherman Questo affilatore È stato creato In collaborazione Con Worksharp Che ha un sacco di affilatori diversi In particolare Questo affilatore Si chiama Pivot Plus Una cosa del genere E se volete Potete acquistarlo Anche separatamente Senza dover acquistare Tutto quanto il kit Ora magari ve ne parlo meglio Nel dettaglio Ma Ovviamente è una figata Perché avete un affilatore Semplice Pratico E veloce A portata di mano Senza dover Fare pratica Imparare con le pietre Portare la pietra Capire il grado L'angolazione Alzo la lama Abbasso la lama Qui passate la lama All'interno Degli affilatori E praticamente Avete già fatto Come vedete Perché secondo me C'è bisogno Kit di manutenzione Perché ormai Gli strumenti Della Lederman Incominciano Ad essere Abbastanza E quindi Dato che Non è più Uno strumentino Diventa una collezione Diventano abbastanza Importanti E voglio che Mantengano Il loro stato Nel tempo Ormai C'è bisogno Di sistemarli Pulirli Poi sapete benissimo Quanto Io Utilizzi Sia per le dimostrazioni Che per le mie Mille attività Questi strumenti Soprattutto la Signal Che è proprio Cioè Mutilata Dalle mille cose Che fa Che le faccio fare E quindi Un po' di cura Ci vuole Perché chiaramente Se te ne prendi cura Dura molto di più nel tempo Basta Aprire e chiudere Aprire e chiudere Aprire e chiudere Con sporco E polvere Tra le varie giunzioni E ragazzi Comunque Si consumano Molto più velocemente Quindi È chiaro Che se volete Una cosa perfetta Nel tempo Volete che duri Va Pulita E Ci vuole cura Quindi Ora Andremo magari A pulire Questi due strumenti Che sono Quelli più Luridi Questo è pieno Di grasso Di mangiate Di carne Sporcizia Insomma C'è C'è il nero Io So che Non capirete Il dialetto Ma lo chiamerei Sivo È pieno di sivo Guardate Guardate che cosa sta Quindi O fate con l'unghia Per levarlo Oppure Appunto Con Cotton fioc Eccetera Possiamo andare A levare Tutta questa sporcizia Per far tornare Il nostro Coltello Nuovo Come appena uscito Dalla scatola La mia percezione Della profondità È completamente Sballata Avendo un occhio solo E non riesco a capire Se sono a fuoco Se l'inquadratura È decente Perché non riesco A guardare Con quest'occhio Chiaramente Anche lo schermo Vedo soltanto L'obiettivo E lo schermo È totalmente fuori Dalla mia Inquadratura Visiva E quindi Boh Non lo so Come stanno venendo Ste riprese Insomma Capitemi I prossimi video Finché ho la benda Saranno un po' così Poi tornerà tutto Alla normalità Spero Dopo sta visita Vediamo se ho ancora Roba da tirare Fuori dall'occhio Metterò una calamita Qua davanti Strazz E tirerò tutto quanto via Comunque A parte questo Parliamo un attimo Dell'affilatore Chiaramente Io per affilare Tutti quanti I miei strumenti Da taglio Coltelli E multitool Ho utilizzato Soprattutto Queste pietrine Qui Ma devi Saperle utilizzare Perché se non capisci L'angolo Col quale Devi strofinare Il filo Della lama Sulla pietra Praticamente Rovini La lama Ho testato poi Chiaramente Nel tempo Anche questo tipo Di affilatori Qui Ormai ce ne sono Parecchi Ogni brand Magari Ha il proprio Ci sono Marche Come appunto La work sharp Che ne producono Alcuni Abbastanza Universali E qual è la caratteristica Di questi affilatori Hanno quest'incavo Questo scasso In cui Infilare il coltello Il filo E L'angolo Di questo scasso Deve corrispondere Al filo Del coltello Noi praticamente Cosa dobbiamo andare a fare Infiliamo La lama All'interno Dell'affilatore E semplicemente La tiriamo Indietro Solleviamo Rinfiliamo E strofiniamo Fino a che Diciamo Non abbiamo fatto Quelle 10 15 passate Dipende Dalla condizione Della lama Quindi praticamente Se tu hai Quest'affilatore Dell'angolo Giusto Per i tuoi coltelli Tu puoi affilare tutto Senza dover capire Niente Ora Se vuoi diventare Un esperto Vuoi avere Certe competenze Chiaramente Devi Saper affilare I coltelli Devi Saper utilizzare Le pietre Però Ragazzi Quando vi portate Sul campo Una cosa del genere Che vi permette Di affilare subito I vostri strumenti In 30 secondi Perché avete bisogno Di tagliare Non dovete Stare lì a fare Le pratiche zen Perché quello È l'altro aspetto Della filatura Così come La preparazione Del fuoco Così come La preparazione Di tante cose Nel bushcraft Anche l'affilatura È una Bella pratica Zen Vi mettete lì Nel silenzio E vi affilate I vostri coltelli Le vostre lame Però quando vi servono Dovete essere veloci BAM Utilizzate sti così qui E vanno una meraviglia Se però appunto Hanno l'angolo giusto Per la lama Un'altra cosa figa È che Hanno piastre Differenti Vedete Questa È scura Questa è chiara Perché? Perché Hanno grane Differenti Quindi vi portano ad avere Differenti tipi di affilatura E così come quello Che vi ho mostrato Anche questo qui Della Lederman È fatto allo stesso modo Avete Queste piastre In carburo E queste In ceramica Quindi voi Se avete una lama Molto rovinata Potrete infilare La lama All'interno Di queste piastre In carburo Strofinare 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 E recupererete La lama Poi per avere Un'affilatura Perfetta Quasi a rasoio Passate Da quelle In ceramica Che sono molto Molto più fini E quindi A quel punto Il vostro coltello Taglierà Che è una meraviglia Se avete però Una lama seghettata Come nel caso Della Signal Come fate? Eh Beh Mica sono scemi Ci hanno pensato Qui in questo caso C'è questo piccolo Bastoncino Diamantato Che si può utilizzare Proprio In base Chiaramente Al diametro Vedete Si restringe Verso la punta E si allarga Verso la base E proprio in base Al diametro Potrete andare A Passare Sulla Lama Anche in questo caso La mia profondità Mi sballa tutto Non capisco niente Per questo Vedete Magari Se dovessi stare A cercare L'angolazione Perfetta Il coltello Taglierebbe Wow È una meraviglia Invece Con questi affilatori Qui Praticamente Non ci vuole nulla Perché Magari Ecco Questa al momento Non è totalmente Rovinata Quindi la passo Soltanto in collo In ceramica Non devo fare Niente Non devo fare Esattamente Niente Se non Passare La lama All'interno Dallo scasso Come vi dicevo Avanti E indietro Quindi Anche se sei cieco E non vedi L'angolo Con cui stai Affilando La lama Comunque La lama si affila Non gliene frega niente Che tu non ci vedi Ficchi La lama All'interno Non so se Vediamo Se riesco a farvelo vedere meglio Ficcate Ecco La lama All'interno E in questo modo Riuscirete Ad affilarla Ragazzi Un'altra cosa figa Che quelli della Worksharp Hanno pensato bene È che Appunto Questi Tipi di Affilatori Chiaramente Non seguono bene La forma Della lama Tu Hai una lama curva La passi All'interno Ma Lo scasso Rimane sempre Della stessa forma Non segue Appunto Perfettamente La forma La geometria Il filo Della lama Ecco Con questo Selettore Qui Praticamente Voi potrete andare A risolvere Anche questo problema Perché Per magia Questo Verrà sbloccato Vedete Non so se Riuscite Vedete Si muove Non so se si capisce Non so neanche se lo sto riprendendo Vabbè Sì dai Sto guardando Questo si muove E quindi Seguirà meglio La lama E nel caso in cui Voi abbiate Una lama Veramente rovinata Quindi Con una cipatura Che ha bisogno Veramente di essere Lavorata per bene Deve essere rimosso Tanto materiale Innanzitutto Appunto Avete Questi affilatori Al carburo Che Se dovete affilarla Vi devastano l'acciaio E ve lo consumano parecchio Ma in più Appunto Andando a sbloccare Questo selettore Seguirà meglio La forma Della lama E potrete ottenere Una filatura Migliore Se invece Volete rimuovere Meno materiale Basta semplicemente Bloccarlo E questo Continuerà Appena appena A muoversi Ma non come prima È molto più fermo E rigido Poi come sempre Passate A quello in ceramica E avete finito Con La vostra Affilatura Lo prendete In questo modo C'è questa presa Diciamo Più comoda Magari Stringete Questo Laccettino Qui Per ampliare Appunto E rendere più comoda La presa E poi Passate Sempre E solo In una direzione Mi raccomando La lama E il gioco è fatto Ora Andiamo a pulire Un po' I miei multitool Bene Ecco qui Il nostro Free K2 Come vi mostravo Prima È totalmente Lurido Guardate Dentro Le incrostazioni Che ci sono E quindi È arrivato Anche il momento Di pulirlo Insomma Perché Deve durare Nel tempo E in queste condizioni Non va Assolutamente Bene Quindi Cosa posso fare? Innanzitutto Per rimuovere Il grosso Posso usare Proprio Lo spazzolino Che in questo modo Andrà a togliere Tutte le parti Guardate Guardate come Già Ha cambiato colore Per farvi capire Quanto era Sporco Quanto continuerà Ad essere sporco Insomma Finché Non Andrò a strofinare Per bene Queste due passate Non hanno Concluso molto Però ecco Nonostante questo Guardate come Già è uscito Marrone Continuiamo Come vedete Questo piano D'appoggio È comodo Sia per mantenere I vari strumenti Chiaramente Se invece Dovete andare Con più precisione A smontare tutto Servirà Proprio Per non perdere Le viti Grazie Altrimenti Uno dice Scusa Lo faccio Sul tavolo Che mi serve Serve Principalmente Per Non andare A perdere Le viti Magari Le puntine Vari I vari Inserti Dei cacciaviti Quindi Ha una sua Funzione Chiaramente E io ora Lo sto utilizzando Così Perché mi è più comodo Dato che non ho Un piano d'appoggio Abbastanza Regolare E comunque Già sto rimuovendo Parecchio L'erciume Qua c'è bisogno Dell'artiglieria pesante Non è ruggine Proprio In crostazione Di sporco Tutti questi strumenti Sono in acciaio Inox Quindi Non si arrugginiscono Così facilmente Non pensate Sono proprio sporchi Perché ragazzi Con tutte le dimostrazioni Che faccio E per quanto Li utilizzo io Hanno Hanno Visto parecchia roba Parecchio sporco E quindi Diciamo che È anche giusto Che siano così Lerci Altrimenti Sembra che Faccio finta Di utilizzarli No Stanno sempre con me Anche qui Nel vano Della lama Si è accumulato Un bel po' di sporco Vi faccio vedere Era pulito Prima Guardate ora Anche qui Marrone Quindi Chiaramente Diciamo che Andava Data una pulita Una sistemata Anche qui dentro Una piccola Scrostata Veloce Ok dai Può andare Poi dato che La lama Non è Abbastanza Rovinata Secondo me Giusto Due passate Nello scasso In Ceramica Possono andare bene E come vedete Taglia di nuovo Benissimo E non ho fatto niente Praticamente Cioè ho fatto Avanti e dietro Tre volte In una fessura E basta Quindi In questo caso Veramente Non servono Competenze Per poter affilare E ora Come ultima Oddio Qua c'è una Crostona Micidiale Che non avevo visto Con un occhio solo È tutto più difficile E anche qui Va pulito un po' Dicevo Ora È giunto il momento Di Utilizzare L'olio È la manutenzione Diciamo Ordinaria Non Devo Veramente Farlo tornare Come nuovo Devo semplicemente Farsi Che sia messo bene E duri nel tempo Quindi Possiamo andare A mettere un po' D'olio Nelle varie giunture E voilà Ragazzi Ora lo faccio Chiaramente un po' Scorrere Ma do E già Chiaramente Altrimenti non avrebbe senso Si sente La differenza Wow Scorrono Già Subito Molto Molto Meglio Eh sì Facevano talmente Schifo Infatti guardate Ora Incomincia ad uscire Il resto Dello Dello Zuzzume Rilasciato Dall'olio Che lo espelle In questo modo Continuo anche La pulizia Ecco perché c'è anche Il panno In microfibra Io ero Praticamente L'aggeggio È quasi perfetto Se avessi due occhi Mi sarei impegnato Un po' Di più Dato che Veramente è una fatica Pure Vedere così Con precisione Tutto quanto Ma sì Che goduria Che goduria Mi sono Sporcato pure Le mani di olio Che goduria Però Vedete Subito Niente Quindi abbiamo Dato una sistemata Al nostro Lederman Free K2 Poi Volendo Ragazzi Posso perdere Qui 50 anni Cioè da pulire La signal Da pulire Il seghetto Che è Totalmente Incrostato Vedete Di legno Di legno E resina E qui Piano piano Con un po' D'alcol Potete andare A Staccare Ogni singolo Pezzettino Per bene Di legno Chiaramente La lama In questo modo Il seghetto Taglierà molto Molto meglio Perché parte Dello spazio Che dovrebbe essere Utilizzato Per grattare Via legno È riempito Di legno E quindi Gratta Meno Sentite Quanto è duro Qua Questo Subito Ha bisogno Di un po' D'olio Oh All'istante Ragazzi All'istante Chiaramente Può essere Utilizzato Per Tutte le Parti Interne Compresa Appunto Proprio L'aggiunzione Vera e propria Della pinza Per tutte Quante Le articolazioni Madonna Scusate Se io mi emoziono Per una stupidaggine Come questa Wow Ho messo l'olio E funziona Però ragazzi Sempre bello E niente Quindi Ho un po' Di lavoro Da fare Bene ragazzi Il mio Free K2 È tornato Super performante Questo non lo fate Se la lama È straincrostata Infatti Non lo facevo più Però Ora finalmente Si può Tranquillamente Aprire Con una mano E velocemente Non è a scatto Cioè Vedete Io sto aprendo Ora la sicura Questo non si apre Non esce Dovete 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 Però dare Un colpo Bello secco Vedete Se non è secco Anche se spingete Non va Non si blocca Ma Se date Il giusto movimento La giusta forza Si apre così E rimane Chiaramente Bloccata La lama E potete utilizzarlo Subito Al momento Bene A parte questo Chiaramente Ho tutti gli altri Da sistemare Non potevo farveli Vedere tutti Anche perché Ho notato Che Effettivamente Se ti metti lì Con tutti gli strumentini Magari con due occhi E quindi Ti rilassi È veramente Una bella pratica Che va Ad aggiungersi A quella Diciamo Della filatura Io Sinceramente Non ho mai avuto Molta 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 Cura Degli strumenti Multiuso Però ecco Date le condizioni Di questo Effettivamente Dovrei averne Un po' di più È il kit giusto Per eliminare Tutto il Sivo Ripetete con me Come condura L'esploratrice Sivo Bene È quello che stava All'interno Dei miei multi-tool Che c'è ancora Da rimuovere Inoltre Se voglio Una filatura Veloce Rapida Efficace Sempre perché Non ci vedo Magari Oh È proprio Azzeccato Oggi il video Non devo stare a pensare Dato che non ho profondità All'angolazione del filo Eccetera Bam Pivot plus Leatherman Worksharp Ottima collaborazione E riuscite ad affilare Tutti i vostri Coltellini Insomma Multi-tool Si sta staccando La benda La colla Se ne sta venendo Quindi Devo cambiarla Comunque Anche per oggi Il video È terminato Spero che sia stato Di vostro gradimento Spero Di non aver fatto Troppe schifezze Anche a livello Di riprese Appunto perché Tra la messa a fuoco Le inquadrature Vabbè Spero vi piaccia Ugualmente Comunque Per non farvi Troppo preoccupare Oddio Che bello Vedere con due occhi Il sinistro Appannato Wow Cioè ci vedo meglio Col destro ora Vabbè Comunque Vedete Gli occhi Ce li ho Semplicemente Deve stare a riposo Deve essere protetto Come vi ho detto Da polvere Fumo Particelle varie Di qualsiasi cosa Quindi Non posso tenerlo Soprattutto In un bosco In mezzo Alla Alla foresta Così Scoperto E niente Fatemi sapere Cosa ne pensate Del kit di manutenzione Vi ripeto Che volendo Potreste acquistare A parte Soltanto Ed esclusivamente L'affilatore Se Vi piace Come Idea Appunto Per affilare una cosa In maniera rapida Veloce Senza dover pensare Angolazioni Bla 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 Ma Magari non volete Tutto il resto Il kit Quindi Comunque Hanno pensato Di dividere Le due cose Fatemi sapere Chiaramente Qui sotto Nei commenti Come voi Vi prendete cura Dei vostri strumenti Multiuso Perché Giustamente Ognuno Ha le sue abitudini Non per forza Devi comprare un kit Già fatto O magari Il kit Te lo crei tu Quindi siamo Tutti curiosi Di sapere Chiaramente Le vostre risposte Le aspetto Qui sotto Nei commenti Spero di guarire Presto E confido Nella prossima visita Ma dato che Comunque dovrò stare A riposo E al sicuro Da roba Che può entrarmi Nell'occhio Per un po' Appunto Dovrò fare Video un po' Diversi A sto punto Ne approfitto E in questo periodo Faccio vedere Un po' di cose Che non vi ho Ancora mostrato A casa Ho batterie nuove Per nuovi progetti Insomma Cercherò In questo mese In questi due mesi Vediamo un po' Come va Di farvi Capire Cosa sto portando avanti Ho un progettino Fico Una grande 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 novità Che spero Vada in porto E niente Come al solito Se non siete iscritti Al canale Mi raccomando Iscrivetevi Venitemi a seguire Su Instagram E su TikTok E noi ci vediamo Con un prossimo video Ciao ciao Io vi vedo Con un occhio solo Però